Sempre, anche oggi, uguale come primo giorno, come a casa, io sento qua come mia casa. Questa è una cosa perfetta per me perché non è nato qua, non sono un italiano. Arrivo qua, sento questo come un caso e questa è una buona notizia per me. Poi Boateng, prova il numero Boateng, sei liberato dalla grande, un capo al lavoro di Boateng per il 2-2, che gol, Boateng. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.